Il merchandising ufficiale adesso in vendita fino al 13 di luglio ragazzi. Trovate il link in descrizione per acquistare i vari prodotti come potete vedere in questa breve introduzione. Quindi ragazzi divertitevi con gli acquisti e buona visione. Bella ragazzoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Se volete supportarmi su Fortnite è possibile farlo direttamente dall'item shop di Fortnite. Basterà andare appunto nell'item shop, cliccare su supporta creatore in basso a destra e andare ad inserire il mio nome ovvero Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Quindi ragazzi ringrazio tutti coloro che dicevano di supportarmi e buona visione. Non so perché l'hanno buggata. La guardavo sempre. No, due skin di mitra. Ok, perfetto. Sembra e per l'unico team? La casa conviene? Io ci vado. E se mi viene la piccola? Ci fa la casa? La piccola questa. Scenditi l'arma, scenditi l'arma. Sta piccolando Martina. Scenditi. Stanno più in un uomo. Mi sta morendo. Ok, ora le hai. Prendi l'arma e killle. Veloce. Velocemente per arrestare. Ah, ora ho preso gli HP. Quello è il problema. Ce la fai? Dovevi killare subito. Barca, aveva fatto il muro. Qual è il problema? Facciamo più che il possibile. Basta, basta, basta. Consigliere che io l'ho picconati per loro, te l'ho picconato prima a te. Quindi ho preso l'arma. Se avessi preso le punizioni, l'avrei uscito prima. No, io ho appena visto iniziano a picconare, te scendo giù. L'arma te la prendi tu e loro continuano a inseguirli. Andiamo a vedere lì. Sono un pump piccolo. No, per reale. Lo vorrei raffasciare. Col tattico, sicuro? Ma sì. Guarda, è una merda il attacco. C'è uno che vola lì. Di sopra. Andiamo da quello. È solo? No, sono le due. Aspetta, si è troppo di me. Aspetta, si è troppo di me. L'ha invitato. Sì, ma largano. Mi hanno fatto malissimo. Questa maga mi spara attraverso le citture. Letteralmente attraverso il muro mi ha sparato. Te lo giuro. Lui lo ci fa, il mio. Vabbè, è il tifullo. Sì, lo so, ma si fulla. Fulla ti anche tu. Tirati tutto quello che hai e killala. Non sei full. Tirati quei cosi. Tanto io lo sdurpo. Non puoi portare. C'è la sua pinca. Ma ti fulli? Non ti fulli, tiratela. Eri giù? Era qua dentro. Sparava attraverso il muro, questo. O me ne vado a dare salti. Come vuoi. Per me te lo puoi anche killare. E dai controller. Alla fine te lo ho presto. Questo è un problema all'altro tempo. Tu sarai lasciato e vattene. Martina. Dici no. Torna a lande. Torna a lande che abbiamo sia le cure che non c'è nessuno. Esatto, lo so sto coso. No, non puoi andare a lande. Puoi andare a condotti. Solo a condotti puoi andare. Io anzi, parche mio. Ho appena costruito. Ho appena costruito. Ma qui? Sì. Ah, ma si sono nascosti sotto. Vai, puoi restare, puoi restare. Io anzi, parche mio me lo sono clappato. Ma te non potevo proprio aiutarti. Sì, ma se io non so se sto laggando per la stream e credo di staccarla. Ma te lo giuro, attraverso il muro mi ha sparato. Vabbè, se puoi inserla gare staccala. Ma roba... Vabbè. Io in build, ah. L'ho terminata, ma comunque dopo ti faccio vedere. Ma sicuro che mi conviene? Build al loop? Sì, sì. Sì, build. Più che altro, spero, non ti sentano. Guarda, corri alle case. Eh sì, l'unico... Ma ci sentano, droppami subito un'arma. No, c'è, l'unico arma che dovreste fare. Corri. Buono la k. A shifti potremmo fare il ferro, però. Eh, lo so, ma... No, shifti già presa. Sola che li siamo troppi in mezzo, non credi? Allora, appena entriamoci, blocchiamo. Cioè, andiamo là? Andiamo lì, a bordo. Ah, va bene, però va bene. Andiamo. Fammi di legno, se devi spavare il legno. Ma se questi non rompono il cazzo, eh. Stanno salendo come delle zoccolette questi. Lo sono fermato qua. C'è uno bello grande, dobbiamo un sacco di legno qua. Oh, cazzo. Voglio non apetare, non ho corretto. Lascio entrare. Ferma. Eccolo, eccolo, eccolo. Wides. Fatto. Guardi, 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 che devo... Guardi, guardi, guardi. Guardi. Quindi, fado. Fai di... Tottico, tottico, blocco. Devo poter buildare avanti. Vai avanti, devo poter build, aspetta. Brava, avanti, no? Ok, così. Va bene così. Qua c'è due ciotterini di metallo. Il bar te lo vuoi? Ma le sboccherebbero, sei tu? Sì, scusami. Quante ne hai? Non ho preso te. No, 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 tolgo, tolgo. Mi servono di mini. Non ho più cure. Non hai più cure. Ah, facciamo una cosa. Pugliamoci un attimo, vini. Ne tiro un'altra, che dici che ne ho quattro. Andiamo a 700. No, dammi le due, dammi le due. E rimaniamo così. Mi devi dare soltanto un po' di colpi di pump se le presi. Sì. Questi? Ah, dobbiamo stare qui, quindi. Abbiamo 400 di mattone e 150 di metallo. Ok, lo posso... Aspetta. Lo spreco verso i portini. Occhio. Questo è da noi. No, 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 no. Andiamo, no. Fira, via, fila, via. Mi ha fatto. Aspetta. Aspetta. Ti coberò, ti coberò, ti coberò. Dai, l'ho tol'ho, l'ho tol'ho, l'ho tol'ho. L'ho tol'ho, l'ho tol'ho. Usa i mini, usa i mini. Ok, li hai idea. Tieni, tieni, tieni. Te ne do un'altro, tieni da un'altro. Ah, ce l'hai, ok. Ok, noi abbiamo 4. Poi stare le casce. Mi taglio, io, tu. 3 stick, poi li uso contro questo team. Chi fa, chi fa? Arrivo. Grazie. Lei, beh, si fa un nuovo, lei, si fa un nuovo. No, dov'è? È qua. Dove hai messo il giro. Ok, ora, 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 stanno vicino, ok. Io non voglio fare qualche passire. No, 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 basta. Mi ascolta adesso. Io ascolto dovevo dire, tu, chiaro, lo ascolta me. Andiamo sulle top, fidati. Andiamo per le top, ascolta me. Qualcuno sarà a distrarre. Lo so, lo so, ma ascolta me, chiedati. Questa mura non è no. Chi ciò? Questa, vai, vieni, vieni. Vai, vieni, vieni. Vai, hit. Bravis. Vedi lo shieldone. Dopo, ora, lo prendo, lo porto di là. Trappaccio, the nade, the nade, the nade. Ok, lo shieldone lo porto, tal godetta. Plani, hai visto? Continuiamo così, aspetta, aspetta, aspetta. Da ricordo. Uh, co-scopo. Un barco, uno. Un barco, un barco. Un barco. Un barco, un barco. Un barco, un barco. Un barco, un barco. Lo so, mi sto un attimo fullando. Lascio stare i mazzi. Mi sono fullato, un barco. Di nuovo la stessa cosa. Mi dobbiamo guardare? Sì. Faddi tu, ok? No, fado io, fado io, faddi, 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 faddi. così va di non so se riuscire a facciare sappiamo io sbocca da barca stai morendo l'ho fatto a prendere i pad vieni qua che facciamo gli spreche vieni da me sono da te, boxati ora dove sei? vieni qua tieni, tieni una smock, tieni una smock puoi buttarla vai 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 andiamo con la smock, vai con la smock vai in safe, vicino a questa sabintona che è sola sono boxato tutto, non ho sciossare, veni da me ho ciso uno, ho ciso uno sono a te, c'è cazzo box, sono sono amica vieni, 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 vieni ok, rimani in volo vieni, 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 vieni appena siamo sul mattone, vieni sul mattone, vieni sul mattone di questo c'è questo è già wick che è un abbo di merda lo tillo ma io mi devo curare perchè sono one shot mi sto curando perchè sono one shot mi fullo, mi fullo, mi fullo, mi fullo sei ok? ora si devo ricaricare un barrack qua c'è uno, qua c'è uno era una po' di merda che ti dicevo, scusate ma vieni da per via, vieni da per via c'è uno, qua c'è uno è white, white atterramo c'è sono i like, sono i like, sono i like, sono i like da mirati da mirati da mirati da mirati da mirati da mirati scusami mi ha preso la chile se uetici da un punto aspetta un po ci da un punto ok puoi fare puoi fare sei uno più uno di uno sicuro cento per cento tutti in solo l rpg ma i ragazzi nel momento a male affanculo così si incontrano e devono per forza fai tarsi se mi fai cadere occhio che ti brava cazzo uno più una razza razzoli no one hit let's fucking go baby woooooo double the aided madafucca ok ora si che si è aperta no bello res e poi abbiamo girato a bello madonna che pane ha visto che